Allora, prima di iniziare con la recensione di oggi, vi ricordo che domenica 22 ottobre, quindi questa domenica, mi trovate al Game Ground di Bolzano, un evento dedicato al gaming dislocato per tutta la città, e io sarò alle 11.30 al Cineplex di Bolzano per giocare a Starfield sul grande schermo e chiacchierare un po' con voi, si fa un discorso mentre si gioca, come avevamo fatto la prima volta che ho stato al Game Ground circa un paio d'anni fa, e se vi interessa, alle 15.30 al Museo Mercantile trovate anche la SVET che vi parlerà naturalmente di adattamento nell'ambito dei videogiochi, quindi se volete siamo lì, così posso abbracciare tutti i bolzanesi che mi seguono, al momento che a me Bolzano tra l'altro piace anche tantissimo come città e sono contento di tornare. Poi vi ricordo che sul sito di Pampling, il linkato è scritto qui sotto, trovate per qualche giorno l'offerta per cui c'è il 20% su tutti gli articoli del sito, tranne quelli di nuova collezione, poi ci sono un sacco di magliette molto interessanti, trovate il link al catalogo sempre ovviamente in descrizione, e se al vostro acquisto aggiungete un paio di calze e usate il codice VILASZLO, le calze non le pagate, quindi avete il 20% di sconto su tantissimi articoli, e in più se usate il mio codice aggiungendo un paio di calze non pagate neanche quelle, quindi una bella offerta, per cui se vi interessa avete questo fare, allora però vando alle cerci iniziamo subito con la recensione di oggi. Sigla! Allora, oggi voglio parlare di un film che stavo attendendo con una trepidazione straordinaria, infatti è la pellicola che più attendevo per questo 2023, e mi riferisco ad un film, per l'appunto del 2023, per la regia di Martin Scorsese, ed è Killers of the Flower Moon, una pellicola che è stata presentata allo scorso festival di Cannes, circolavano già alcune recensioni specializzate, e c'era chi lo riteneva un capolavoro contemporaneo, chi invece non era molto convinto, quindi ero davvero curioso di guardarlo, a parte che quando si parla di Martin Scorsese io volo al cinema senza pensarci troppo, perché è uno che alla sua età sforna ancora dei film incredibili, penso a The Wolf of Wall Street che a me sembra uscito ieri, che invece ha già 10 anni, che è uno, secondo me, dei film più belli che ha realizzato negli ultimi 20-25 anni, oppure ancora Silence, che è un film molto difficile, lui stesso ci ha messo 27 anni per farlo come voleva, e per me è ottimo, oppure ancora The Irishman che sicuramente ha qualche difetto, non ultimo, la digitalizzazione, non proprio convincentissima per usare l'eufemismo, dei personaggi che sembrano anziani nei movimenti anche quando sono più giovani nel film, perché di fatto sono anziani mentre interpretano, però rimane un film incredibile, una sorta di quei bravi ragazzi senile, in senso positivo però non negativo, e quindi non potevo non essere curiosissimo per questo, questo film è tratto dal romanzo Gli Assassini della Terra Rossa, di David Graham, che ho acquistato recentemente, ho iniziato a leggere proprio ieri dopo aver visto il film, perché mi ha incuriosito, e la storia che viene raccontata è accaduta realmente, è la storia del massacro degli Osage, una tribù indiana che verso la fine dell'Ottocento scoprì il petrolio nelle proprie terre, e questo attirò naturalmente gli sciacalli americani che volevano quella ricchezza, quella risorsa, e il film dura tre ore e mezza, che può essere sicuramente una durata scoraggiante, la maggior parte dei commenti che leggo in giro sono di curiosità, ma sempre accompagnati da frasi come sì però tre ore e mezza è un sequestro di persona, è vero tre ore e mezza è un po' un sequestro di persona generalmente, che però io non ho percepito guardando il film, anzi quando si sono accese le luci alla fine della proiezione, io mi sono guardato intorno e ho pensato ma sono già passate tre ore e mezza, guardo l'orologio, io sono entrato in sala verso le nove, poi il film è iniziato poco dopo le nove, quindi nove e dieci, ed effettivamente era l'una meno venti, e ho detto ma com'è possibile? Io non ho accusato neanche per un secondo la lunga durata del film, anche perché mi sono accorto che in alcuni momenti andavano velocissimi a livello narrativo, e quindi significa che per raccontare come si deve questa storia, tre ore e mezza sono a malapena sufficienti, è una storia che copre parecchi anni, i personaggi invecchiano, non in maniera eccessiva, sotto i nostri occhi, e quello che succede è qualcosa che va raccontato con una certa calma, eppure nonostante questo ci sono dei momenti in cui quasi non si capisce bene quanti mesi o anni passino tra un momento e l'altro perché dovevano andare piuttosto veloci, altrimenti altro che tre ore e mezza, quindi io non ho trovato insensata la durata, anzi, il film ha avuto anche delle vicissitudini produttive non indifferenti, perché inizialmente era prodotto da Paramount, poi DiCaprio chiese di cambiare un po' la sceneggiatura, anche perché lui voleva interpretare poi un altro ruolo, si era scambiato mi pare con Jesse Plemons e quindi Paramount a un certo punto ha detto vabbè raga sta costando troppo, ciao, perché comunque ha un budget di 200 milioni, è subentrata Apple, che ne ha fatto un Apple Original per Apple TV+, ma a condizione che avesse una distribuzione regolare nelle sale cinematografiche, perché Scorsese era rimasto scottato da Netflix per The Irishman, dal momento che nessuno voleva dare a Scorsese 200 milioni per fare quel film, Netflix ha detto noi ci stiamo, Scorsese ha detto va bene ma il film deve andare al cinema, Netflix ha risposto sì certo, il film è andato al cinema per qualche settimana e poi è arrivato subito sulla piattaforma, cosa che a Scorsese non è piaciuta, lui ha detto ma i patti non erano questi, no, i patti erano che andava al cinema, non per quanto, e quindi stavolta ha voluto essere chiaro e quindi quando poi Apple ha deciso di produrre il film, Paramount è tornata sui suoi passi per distribuirlo successivamente in diverse nazioni e quindi ci troviamo di fronte ad un film molto complesso, monumentale, con un cast eccezionale, io ho trovato Leonardo Di Caprio nell'interpretare Ernest Burkhart il protagonista eccezionale, secondo me davvero uno dei ruoli migliori della sua carriera insieme a quello in The Wolf of Wall Street dove interpretava Jordan Belfort, a quello di Candy in Jungle Unchained, ci metto anche prova a prendermi di Spielberg, anche se era un Di Caprio ancora leggermente acerbo ma bravissimo, senza ombra di dubbio, qui secondo me ha dovuto interpretare un personaggio molto difficile, anche perché comunque Ernest Burkhart si divide tra la disonestà e l'amore, è un personaggio molto particolare che si ama e si odia, io c'erano dei momenti in cui lo trovavo dolcissimo, altri in cui avevo voluto prenderlo a badirate perché pensavo ma che cazzo stai facendo, idiota, maledetto, bastardo carogna, è un film che mi ha lasciato un senso di schifo alla fine che è impareggiabile perché comunque è una grande critica sociale e soprattutto a quello che è successo a molte tribù indiane da parte di quelli che di fatto erano coloni e che nel tempo si sono appropriati di una terra che di fatto non era loro, cercando di distruggere i nativi americani, la ferocia con cui Scorsese punta il dito si avverte, peraltro il finale di questa pellicola per me è geniale, simbolico al massimo, con una ricostruzione storica, mediatica, eccezionale e c'è una chicca alla fine che mi ha veramente fatto dire vabbè che cosa devi fare. Il modo in cui Scorsese si è preso a cuore sul personale la questione per me è commovente, si vede che in ogni inquadratura lui ci mette un amore sconfinato, la voglia di ricordare quello che è accaduto. Io ho trovato la regia mostuosa, è una regia splendida, fatta di inquadrature a macchina da presa fissa che a livello geometrico sono costruite con una cura impressionante, cioè c'è la scena che vedete anche nel trailer, quella con Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone che interpreta Molly dall'altra, quindi sono a fianco. Se voi guardate il fotogramma vi rendete conto di quanto la costruzione a livello proprio di proporzioni sia pressoché perfetta. Loro sono esattamente al centro di inquadratura, i mobili dietro hanno proprio la proporzione, la distanza che rende tutto, cioè si può disegnare un triangolo perfetto in quella inquadratura, è incredibile. Cioè una geometria così ricercata in ogni singola inquadratura è roba da folli. Poi capisco come mai fin come questo hanno bisogno di un sacco di tempo per le riprese e di un budget considerevole, 200 milioni di dollari e un budget gigantesco per un film del genere. Io temo che flopperà, nel senso che per rientrare nei costi, anzi per essere un successo più che per rientrare nei costi deve fare 600 milioni. Se poi li fa io stappo lo champagne perché per me se ne meriterebbe anche molti di più. È vero che recentemente un film come Oppenheimer che a parte in bianco e nero, vietato in 18 anni in gran parte dei paesi in cui è uscito, peraltro della durata di tre ore, ha incassato quasi un miliardo. Però lì c'è stato un buon marketing, c'è stato in parte, non del tutto, ma in parte anche la questione del Barbenheimer. È un film che è stato proposto e venduto al grande pubblico in maniera eccezionale. Questo difficilmente riuscirà a essere una cosa simile. Se poi dovesse incassare anche solo 350 milioni, io godo. Però per me questo è un film che arriva a stento ai 250. Ma non lo dico per gufaglia, lo dico perché i film di Scorsese sono così. Giusto The Wolf of Wall Street aveva superato i 400 milioni perché c'era stato un passaparola incredibile. Anche quello era un film che durava molto, circa tre ore, però era anche un film che a uno spettatore magari meno cinefilo può piacere comunque perché ci sono parti comiche, perché ci sono dei momenti assurdi. Qui no, questo è un film molto potente nella messa in scena, ma che è serio dall'inizio alla fine e ti parla di qualcosa di estremamente doloroso e non è un film con scene action. Per dire, in The Irishman c'erano scene disparatorie, per quanto fosse un film anche quello lento, che poi secondo me questo non è lento, questo più che altro è gravoso. Dico gravoso perché se dicessi pesante sembrerebbe qualcosa di negativo, invece gravoso dà effettivamente di più il senso di quello che voglio dire. gravoso nel senso che lo senti pesare non in maniera negativa, pesare nel senso che senti la gravità di quello di cui si sta parlando. È un film che ti tiene impegnato per tre ore e mezza con momenti terrificanti da un punto di vista morale, etico, quindi è un film che senti molto sulla pelle mentre lo guardi. Lo schifo che ti vuole comunicare ti entra nelle vene, è un film che ti sfidisce. Io sono uscito dalla sala contento ma di un umore pessimo perché mi ha fatto riflettere sulla malvagità umana, sulla cattiveria e su quanto molto spesso ci sono persone che si credono estremamente furbe ma non fanno i conti con quella che è poi la realtà. In un certo senso il film volevi dirti, alla fine a tutti tocca di pagare ma fino a che punto può pagare il privilegiato? È un discorso che c'è anche in The Wolf of Wall Street se ci pensate. Quindi a me è piaciuto molto sotto questo punto di vista perché è una pellicola che porta ad una riflessione molto molto ampia e io a livello di cast credo che Scorsese abbia fatto una scelta eccezionale. Finalmente vediamo di nuovo insieme Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, i due attori feticci del regista. De Niro l'ha usato molto in passato, l'ha usato anche recentemente The Irishman ad esempio. DiCaprio è diciamo più giovane di De Niro quindi ha iniziato ad utilizzarlo già diversi anni fa e era da un po' che voleva fare un film con loro due insieme e qui c'è DiCaprio che interpreta per appunto Ernest Burkhardt mentre invece De Niro interpreta lo zio William Hale, il re, quindi già qui ci sono le citazioni, anche re per una notte, è un film che in cui Scorsese si autocita molto però io li ho trovati fenomenali e qua in tanti mi hanno chiesto secondo te qualcuno di loro verrà candidato agli Oscar? Ma io li candiderei tutti onestamente. DiCaprio se non viene candidato, ma non dico gli Oscar ma in generale è una stagione di premi, mi incazzo. È un ruolo incredibile. Lily Gladstone secondo me i premi maggiori ce li ha già nella tasca perché è stata fenomenale, un personaggio molto difficile, quello di Molly, un personaggio che soffre le pene dell'inferno in terra e lei deve, la Gladstone doveva rappresentare questa donna fortissima che subisce quello che subisce ma rimane sempre in piedi. Una donna a cui viene tolto tutto, persino la salute fisica. Quindi è un personaggio che io ho adorato, una donna molto libera e indipendente nonostante ci troviamo nei primi anni del novecento, quindi nei primi decenni del novecento. Per cui stiamo parlando di un periodo dove la libertà non era moltissima per le donne, figuriamoci per una donna che faceva parte di una tribù indiana, che era una minoranza di cui nessuno si curava. Per cui io trovo che sia stata eccezionale Robert De Niro, ma che ve lo dico a fare. Il modo e l'intesa che ha, il modo in cui interpretano i personaggi e l'intesa che hanno i due attori sul set è palpabile. Ti sembra quasi di poterla afferrare. Si vede che desideravano essere lì in quel momento e che desideravano tornare sul set insieme. Era un momento che, l'ultima volta che hanno lavorato insieme, Di Caprio era piuttosto giovane e tra l'altro fu proprio De Niro a consigliare a Scorsese di provare a fare qualcosa con Di Caprio. Molti pensano, ah, De Niro, perché io ho sentito alcuni di dire, eh, De Niro era un po' invidioso perché Scorsese lo aveva sostituito con Di Caprio. In realtà De Niro non è stato sostituito innanzitutto, ma poi era contentissimo perché è lui ad aver detto a Martin, guarda che quello tenero d'occhio perché è bravo, quindi figuriamoci, si stimano molto reciprocamente Di Caprio e De Niro. Ed è una cosa ottima. Quando io adoro due attori, sapere che si stimano e c'è un rapporto di amicizia nella vita reale, è sempre bello. È sempre bello sapere che quell'intesa viene portata poi al di fuori del set. E quindi sono incredibili insieme e poi c'è anche Jesse Plemons che arriva molto avanti nel film. Superate le due ore, però quando arriva si fa sentire, interpreta questo detective e è stato molto bravo e anche se non compare tantissimo, comunque l'ho apprezzato molto e anche lui è uno che secondo me qualche premiuccio o qualche candidatura o qualche premiuccio. Non dico gli Oscar, ma parlo degli... cioè non intendo solo gli Oscar, io parlo della stagione dei premi in generale. Secondo me viene tranquillamente selezionato, ho questa idea. Quindi sotto questo punto di vista, direi che siamo a dei livelli altissimi, anche che Brendan Fraser, che non compare molto nel film, compare veramente poco, mi è piaciuto un sacco. Pare che abbiano tagliato molte delle sue scene, ma nonostante ci sia veramente per 5 minuti, 10 minuti massimo in tutto il film, te lo ricordi. Te lo ricordi perché ha questa presenza imponente, è una parte bravissima, insomma io l'ho apprezzato tanto e sinceramente sono rimasto anche colpito per la narrazione, la sceneggiatura. È un film che è costruito da un certo punto in poi come se fosse una sorta di gangster movie, ma con una decostruzione alla base. Quindi è più che costruito, è decostruito come un gangster movie. Perché comunque quello è il filone in cui Scorsese si muove meglio, è quello con cui è più a suo agio, lo sappiamo. E alla fine è quello, è una sorta di gangster movie, ma più subdolo, dove non ci sono, come dicevo prima, chissà quali grandi scene d'azione, ma la tensione si percepisce in maniera chiara, perché è un film che vuole parlarti di uno sterminio sistematico con qualcuno che pianifica e altri che eseguono. Quindi ci sono gli elementi tipici del gangster movie, ma poi il modo di narrare è diverso rispetto a quello che può essere un a quei bravi ragazzi, un casino, è un The Irishman. È questa la cosa che ho adorato di questo film, che di fatto io guardavo e pensavo, cazzo ma è un gangster movie. Però non è un semplice gangster movie, è qualcosa di molto più ampio, di molto più forte, a mio modesto parere. E a livello di messa in scena io ho trovato alcuni momenti che sono eccezionali, veramente. Ci sono delle scene che mi hanno tenuto incollato alla poltroncina e per me una messa in scena del genere è qualcosa che va oltre il semplice essere notevole. Cioè qui stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso, non è un film che mi sentirei di paragonare a qualcos'altro. Cioè è proprio una cosa che Scorsese ha fatto più per se stesso che per il pubblico. Ha creato una messa in scena, un modo di narrare che hanno in seno tutta la sua poetica, ma poi fa qualcosa di diverso. Ha riscritto un po' il suo stile che c'è, però lo ha reso molto più, molto più diciamo sferzante in un certo senso. Tra l'altro per essere un film di Scorsese è anche meno visivamente violento di quello che si potrebbe pensare. Scorsese è uno che molto spesso inserisce scene sanguinose nei suoi film. Qui ce ne sono alcune, però neanche troppo. Perché? Perché la vera ferita non è tangibile sullo schermo col colpo di pistola, il sangue che schizza. E ripeto, queste cose ci sono anche. Però ad esempio pensate a Un Day Departed. Un Day Departed è un po' più violento, se vogliamo, ok? Anche quello gangster movie eccezionale. Qui abbiamo invece una violenza meno invasiva in un certo senso, anche se invasiva non è il termine giusto per un film come Un Day Departed o altri di Scorsese, però diamolo per buono perché la ferita qua è più psicologica. Qui ci sono più che altro le conseguenze delle morti su chi rimane, su chi è vivo e deve sopportare l'idea che il proprio popolo, la propria famiglia, i propri affetti vengano lentamente, sistematicamente massacrati senza che nessuno intervenga per fermare la follia. È un popolo che si sente abbandonato da tutti, persino dal loro dio a un certo punto. Quindi Scorsese voleva che la violenza questa volta fosse psicologica, fosse qualcosa che percepisci non tanto da un punto di vista estetico, ma da un punto di vista di sensazione, da un punto di vista sensoriale. E quindi anche questa è una cosa secondo me fantastica. E come dicevo DiCaprio ha interpretato alla perfezione Ernest Burkhardt perché io a un certo punto pensavo fermati, smettila, ritrova te stesso. Un personaggio veramente orribile, tremendo, che io ho detestato e amato allo stesso tempo. Per quanto non sia un personaggio positivo, un personaggio assolutamente negativo, peraltro è un personaggio che se ci pensate si contrappone a quello di De Niro e Hale perché il personaggio di De Niro è un uomo tutto in un pezzo, coerente con se stesso fino alla fine. Ernest Burkhardt no. Ernest Burkhardt è più sfuggente, volatile, è uno che segue di più la corrente del vento, non è un uomo tutto in un pezzo sebbene spregevole come Hale. Hale è spregevole a maggior ragione per quello. È uno che non torna sui suoi passi, è uno che rimane lì fermo, convinto di avere tutto in pugno. Ed è quello che fa schifo. C'è una cosa che dice ad un certo punto che a me ha fatto pensare ma questo è veramente un uomo orribile. Il fatto che sia tutto d'un pezzo è forse la cosa peggiore del personaggio perché incarna proprio l'identità del malavitoso diciamo stereotipato di un tempo. Quelli che ad esempio nell'ambito della malavita organizzata, della mafia d'Italia chiamavano, si chiamavano uomini d'onore. È quella roba lì. L'onore, l'onore sta nel non piegarsi mai. Ti beccano, tu nega. Hai davanti il tuo complice, tu non l'hai mai conosciuto. Ma chi è questo? Ma chi lo conosci? È quella roba lì. Solo che qui Hale è presentato come un gentiluomo di età avanzata e per questo sembra un nonno benevolo. È un serpente pronto a morderti. È un po' tipo il serpente a sonagli che attira la preda con il sonaglio e poi tam seccata. È quella roba lì. E ha esattamente quel tipo di aspetto, quell'immagine. Un serpente in fido che però sa rabbonirti. Burkhardt no. Burkhardt è totalmente all'opposto. È un personaggio che non sa mai bene come comportarsi, che ha bisogno sempre di qualcuno che gli dia gli ordini, che si ragiona con la propria testa, combina solo casini. Per cui è per questo che io ho adorato DiCaprio e De Niro. Poi abbiamo per appunto Molly, vi ho già detto prima, una donna che ha sofferto tanto. Una donna che quando dico che è libera, è libera e indipendente nel senso che lei comunque in un certo senso ha una certa libertà di scelta. Può scegliere con chi uscire. Può scegliere se concedersi di avere un rapporto sessuale anche prima magari di di aver sposato una persona. Diciamo che si comporta in un modo molto contemporaneo. Ricordiamoci che il film è ambientato nei primi anni del Novecento, dove la libertà non è che fosse così tanta, ma soprattutto per le donne. Quindi figuratevi. Per cui è un personaggio che ho apprezzato tantissimo. Ma anche gli altri membri degli Osage sono affascinanti, perché ti fanno capire quanto effettivamente piano piano loro stiano perdendo la cultura che li contraddistingue e soprattutto i più giovani. C'è una scena all'inizio che parla proprio di quello e poi diciamo che c'è quel momento che si vede anche nel trailer, non voglio spoilerare, che da un punto di vista visivo per me è qualcosa di incredibile. Io la guardavo con la scena e dicevo ma come cazzo ha fatto a fare una roba del genere? Ma è allucinante. Io alzo le mani. Per me da un punto di vista visivo è eccezionale. E poi non è un film esente da difetti, per l'amor del cielo, però per me ne ha veramente pochi. Un difetto per quanto mi riguarda è il fatto che vada molto veloce, soprattutto nella prima parte. Veramente è super rapido, ok? E poi nella seconda forse il ritmo rallenta un po', per quanto io non l'abbia trovato pesante, per cui c'è un filo di discontinuità. Prima veloce, poi lento, poi ancora veloce, poi ancora lento. Quindi non lo so. Però vi ripeto, io non ho trovato che il film fosse da accorciare. Per me tutto quello che viene raccontato è fondamentale e anzi hanno dovuto tagliare alcune cose. È evidente che abbiano dovuto proprio comprimere, nonostante duri tre ore e mezza. Perché? Perché è un film che racconta una storia estremamente complessa. Non è facile. Anche il rapporto tra le sorelle e i molli, ok? Io l'avrei voluto addirittura più approfondito. Cioè, secondo me, è anche troppo superficiale. Poi, in realtà funziona. Tutto quello che succede, secondo me, è chiaro. Le conseguenze sono sicuramente ben mostrate. Però addirittura io avrei inserito dei momenti con le sorelle aggiuntivi. Cioè, per me sono andati anche troppo veloci. Quindi, lamento magari un approfondimento meno, diciamo, meno ampio di quello che avrei voluto per alcuni personaggi. A un certo punto c'è il personaggio di Harry, quello depresso, ma lo vedrete nel film. Lui, ad esempio, è un personaggio che avrei voluto vedere più approfondito. Perché anche lì si vede che era un personaggio importante, ma hanno dovuto un po' correre. Quindi, per me, il maggiore difetto è questo. Problemi di ritmo, per modo di dire, dovuti al fatto che c'era un'ampiezza di cose da raccontare che era forse eccessiva. Non è neanche colpa di Scorsese. Quindi io mi lamento proprio dell'opposto di quello di cui si lamentano altri. Per me sono anche andati troppo rapidi con alcune cose. Però, al di là di quello, io di grossi difetti nel film non ne trovo. Cioè, per me, a livello di messa in scena, è una delle cose più belle che abbiamo visto da Scorsese da parecchi anni a questa parte. Ma proprio anche il modo in cui hanno rappresentato il luogo di Fairfax e tutto quello che sta intorno. Il motivo per cui il film si chiama Killers of the Flower Moon. Flower Moon, che non vi dico cos'è, cioè la scena in cui lo mostrano. Io avevo proprio il fiato in golo. Ho detto, madonna, mi sentivo come sperduto in quel mare sconfinato. Oppure ancora, proprio a livello di scenografie, la città, i sobborghi, che hanno un sapore da film western, in un certo senso, no? Che poi, tra l'altro, i western e i gangster movie hanno un punto di contatto. I gangster movie è l'evoluzione, è sempre stata considerata un po' l'evoluzione del western, se vogliamo. Quindi il fatto che si mescolino queste due atmosfere, per me è perfetto. È un cerchio che si chiude. È una meraviglia. Io ho trovato che la creazione di questo microcosmo nella nazione degli Osage sia messo in scena alla perfezione. Cioè, ci sono alcune scene che per me sono di un suggestivo incredibile. Non posso entrare troppo nello specifico, lo farò nella parte spoiler. Però, per me, è una messa in scena clamorosa. Così come è clamorosa la regia, con questi piani sequenza, a un certo punto, che sono splendidi. Ci sono questi piani sequenza che vanno a rivelare piano piano la situazione che ti fanno capire quanto Scorsese ci tenesse a mostrarti nel profondo quello che provano i personaggi. E da questo punto di vista, secondo me, ha fatto un lavoro davvero incredibile. Capisco come mai ci aveva messo tanto a girarlo. Comunque erano sei anni che ci lavorava. Perché poi di mezzo c'è stato di Irishman. Quindi ci ha lavorato parecchio questo film. Ecco come mai ci ha messo tanto per metterlo in produzione, trovare che glielo producesse, girarlo. Perché è un film veramente monumentale. È una vera e propria ipopea. È un'ipopea attraverso le vite devastate di un gruppo di persone che non cercano nient'altro che sopravvivere. E cerco di fare nient'altro che sopravvivere. Quindi per me è veramente qualcosa di eccellente sotto qualunque punto di vista. Per cui per me Chi des oltre di Forever Moon è una pellicola straordinaria. Io lo metto tranquillamente tra i migliori film dell'anno. Adesso stiamo iniziando a tirare le somme. Io ho i miei tre favoriti che sono Bua Paura, Oppenheimer e questo. In molti mi hanno chiesto come lo paragoneresti, cioè come lo confronteresti rispetto a Oppenheimer. Posto che per me sono due film completamente diversi e non c'è bisogno di fare un confronto. Se devo pensare a quale dei due mi è piaciuto di più vi dico questo. Non perché il film di Nolan sia bello, è splendido. Però ad esempio io il film di Nolan l'ho vissuto con tranquillità. Le tre ore non le ho sentite per nulla, ma vi posso dire che ho sentito ancora di meno le tre ore e mezza di questo. Cioè in Oppenheimer c'è la scena, gli ultimi 40 minuti del processo, che a me non sono pesati ma che forse appesantiscono un po'. Io qui l'appesantimento non l'ho sentito, onestamente, perché c'è una chiusura del cerchio. Poi io penso che siano percezioni. È tutta una questione di percezione. Come sempre del resto. È sempre una questione di percezione. Tre ore e mezza a me non pesano, a un altro potrebbero pesare da morire. Ho già sentito molte persone che dico ah io mi stavo rompendo i coglioni. Mi dispiace onestamente. Come al solito siamo di fronte a un film che divide. Il problema è che molto spesso io noto che le persone non vogliono andare oltre quella che è la soggettività, la pancia. A me il film ha rotto i coglioni e è un film di merda. Ho sentito tanti commenti del genere e io un po' mi imbizzarrisco. Mi imbizzarrisco. Ad esempio è arrivato un tizio a scrivere su Instagram che diceva che la messa in scena è piatta. E io gli ho chiesto ma ce la fai a dirmi perché è piatta? Cioè non è una argomentazione. O meglio, è una argomentazione se mi spieghi perché. Cioè tu puoi pensare che la messa in scena sia piatta ma ci mancherebbe altro. Però mi devi spiegare il perché. Perché se tu mi dici che la messa in scena è piatta io alzo le mani, ci guardo i film e dico ma come cazzo fai a dire che la messa in scena è piatta? Cioè a questo punto discutiamone. Perché se non ne discutiamo eh non ne usciamo più. Perché per me è lì da vedere. Cioè la messa in scena piatta ragazzi è un'altra roba. Come si fa a dire che la messa in scena sia piatta di questo film? O meglio, dimmelo e spiegami il perché. Io sono assolutamente, totalmente, indefessamente contento di discutere sul perché la messa in scena sia piatta. Ma se io ti chiedo la messa in scena è piatta perché e tu non mi rispondi o mi continui di dire ma la messa in scena è piatta, capito? Ma dimmi perché. Cioè sono parole a caso o mi stai... Cioè capito? Questo è il senso. Ma come mi sento dire eh però tu rispondi male alla gente. Io non è che rispondo male alla gente. Però se poi... Cioè o meglio sì ma quando? Quando mi sento dire eh ma che cazzo di film hai visto? Ma come al solito non ne capisci un cazzo. E lì cosa devo fare? Devo mettermi a dire no hai ragione sì sì sono proprio un coglione ma 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 parliamo più parliamo un pochino più profonditamente del perché sono un coglione. No dico ma scusami ma ma piuttosto cosa stai dicendo tu? Io discuto il problema è che ci sono persone che vogliono gettare merda sul film senza però spiegarti il perché. Se poi tu hai degli argomenti validi io posso non essere d'accordo ma rispetto quello che stai dicendo però mi devi devi avere un'argomentazione valida perché altrimenti vieni qui mi tratti male spari cose che non hanno senso di esistere se non le argomenti quello dico quindi cerchiamo sempre di argomentare cioè il film può non esservi piaciuto potete non aver trovato interessanti personaggi potete anche aver trovato la messa in scena piatta però se si dice una cosa del genere su un film come questo è meglio avere degli argomenti perché altrimenti è come discutere con un muro di mattoni bisogna avere degli argomenti ok? perché poi c'è anche la pancia c'è anche il ma non so spiegartelo ma non mi è piaciuto ok? però dillo non che arrivi cercando di fare lo splendido e poi non sai non sai spiegare quello che stai dicendo quello intendo discutiamone in maniera anche controversa ci sta che uno non piaccia però cerchiamo di tirar fuori oppure se uno non ha voglia di argomentare dice guarda a livello personale ti dico a me non è piaciuto non so spiegarti bene perché ma mi è sembrato strano ok allora lì dico vabbè ok non ci sono non ci sono problemi non stai avendo la pretesa di dire che oggettivamente il film è una merda perché c'è chi lo fa ok? e quando io vedo le persone che lo fanno con un film come questo mi dispiace perché penso cazzo ma cos'è diventata la discussione cinematografica alla fine non è che tutti devono essere esperti non serve essere esperto però almeno argomentare sarebbe la base per una discussione sana senza contare che ci sono persone tante a dire il vero che mi hanno detto ma secondo te vale la pena vederlo? mi hanno detto ma come vale la pena vederlo? ma è un film di scorsese ma si va cioè per me è scorsese si va a vedere proprio senza neanche pensarci oppure quelli che mi dicono io lo vorrei vedere aspetto che arriva in in streaming così lo vedo a pezzi io capisco che tre ore e mezza è obiettivamente tre ore e mezza sono impegnative ragazzi sono è proprio impegnativa come cosa tre ore e mezza di film non sono facilmente sostenibili io lo capisco e anche qui ognuno può fare quello che gli pare voi potete anche guardare il film in un mese guardarvele un minuto al giorno non è ci mancherebbe altro però allo stesso tempo quando sento queste cose per me è una pugnalata al cuore cioè personalmente quando sento di gente che dice me lo guardo tipo serie tv come alcuni facevano con di Irishman mi viene male mi viene malissimo l'idea di non guardare questo film in sala deliberatamente per poterselo guardare a pezzettini in televisione è un colpo al cuore mi fa capire come tanti spettatori non abbiano più voglia di godere quella che era magia del cinema in tutta la sua interezza lo capisco ripeto lo so che è impegnativo non tutti molto banalmente non tutti hanno tre ore e mezza a dedicare per guardare un film lo capisco però lo stesso quando sento me lo guarderò a pezzi in streaming dico dio dio no mi viene male però ognuno poi che poi può essere in streaming poteva essere in blu ray o magari c'è la gente che lo faceva anche con il blu ray ognuno fa quello che vuole però è una cosa mia è una cosa mia più che altro sapete perché perché è un film che per me va visto in sala cioè ha proprio bisogno della sala per essere fruito come Scorsese lo ha pensato e quindi io vi consiglio trovatele queste tre ore e mezza per andare a vedere i film secondo me non ve ne pentirete poi oh magari lo guardate e dice minchia che palle ok perché ripeto è soggettivo io non ho sentito per niente il passare del tempo altri lo sentirebbero come un calcio nelle palle però penso non si possa negare che da un punto di vista registico sia mostruoso la fotografia è impressionante le musiche regale le musiche sono sono qualcosa di di eccezionale la corona sonora i Robbie Robertson è qualcosa di fenomenale soprattutto nell'ultima mezz'ora secondo me le musiche mettono proprio il turbo e vi ripeto per me il momento più alto di tutto il film sono proprio gli ultimi minuti gli ultimi minuti sono qualcosa di eccezionale perché Scorsese fa una cosa che si fa spesso in questo tipo di film ma la trasforma la fa sua e io ho apprezzato grandemente per cui per me Killers of the Flower Moon è un film davvero davvero bellissimo con qualche piccolo difetto per quanto mi riguarda che è più che altro sulla gestione del ritmo perché per le altre cose non riesco a trovare grossi difetti onestamente non particolarmente almeno faccio veramente una gran fatica quindi sicuramente non è un film perfetto al 100% per insomma per me si avvicina un po' e se pensate che questo ha più di 80 anni fa un film del genere e io l'ho detto in un commento sui social proprio ieri sera io se potessi farei ibernare Scorsese in modo da scongelarlo ogni tot tempo per permettere di fare film per altri 600 anni poi posso non essere stato d'accordo con alcune delle sue dichiarazioni in passato e di recente e io stesso ho detto non è che se Scorsese fa dei gran film ed è un maestro ogni cosa che dice bisogna prenderla come oro colato ok se però parliamo di lui come come regista non è come dicono molti che dicono ah non puoi criticare un film di Scorsese perché è un maestro e quindi se lo critichi sia un coglione non capisci un cazzo no semplicemente non è che non si può criticare è che un film come questo così come altri di Scorsese quando si criticano bisognava farlo con un gran criterio perché sono dei film talmente enormi che quando poi senti uno che magari li critica buffo ti viene da dire ma che cazzo sta ma come devi avere delle argomentazioni solide per per contestare lo puoi come tutto anche Scorsese i suoi film sono contestabili ci mancherebbe altro però a livello puramente cinematografico io parlo proprio dei suoi film non parlo delle cose che dice parlo dei film lì certi film per contestarli e sono contestabili naturalmente bisogna farlo con delle argomentazioni solide perché altrimenti di fronte alla grandezza di certe cose uno dice sì spiegami è quello che dicevo prima spiegami però perché stai dicendo che questa scena non è fatta bene perché è lì da vedere che è una scena enorme se tu hai da dire dillo però è meglio avere delle argomentazioni solide per creare una discussione poi se uno vuole dirlo e non vuole discutere allora lo dice subito fine quindi per me stiamo parlando di un'opera completa forse uno dei suoi film più maturi proprio anche per la tematica che tratta e per quanto lui se la sia presa a cuore per quanto la volesse raccontare in un certo modo quindi per quanto mi riguarda siamo a dei livelli eccezionali veramente livelli eccezionali a dir poco quindi questo è quello che pensavo circa Killers of the Flower Moon in maniera un pochino più generica adesso vorrei parlarne in maniera più spoilerosa quindi io vi abbraccio vi ringrazio grazie a tutti i miei seguiti fin qui noi ci vediamo anzi scusate prima scrivete un conto qui sotto cosa ne pensate il film l'avete visto lo vedrete insomma fatemi sapere vi è piaciuto non vi è piaciuto noi ci vediamo al prossimo movieblog se il film non lo avete ancora visto se invece l'avete visto e volete sapere la mia in più specifico gli spoiler iniziano tra 3 2 1 allora iniziamo con la scena iniziale in cui vediamo gli Osage che stanno per seppellire questa pipa quindi stanno facendo un rito funebre e parlano di come i giovani in futuro diventeranno sempre più bianchi sia fisicamente sia a livello di cultura cioè la nazione Osage piano piano sparirà gli Osage spariranno perché l'uomo bianco li sta contaminando in un certo senso e poi poco dopo vediamo che trovano il petrolio e c'è questa scena fantastica che sembra un quadro con gli Osage che festeggiano bagnandosi con la sostanza oleosa e da lì poi vediamo l'arrivo di Ernest dalla guerra che va a trovare lo zio nella nazione degli Osage e lo zio inizia a spiegare che gli Osage sono fantastici sono bellissimi sono tra le persone più interessanti che conoscerà il nipote e poi soprattutto sono molto intelligenti non vanno sottovalutati sì gli Osage c'è questa scena che è meravigliosa il montaggio lì è pazzesco gli Osage sono proprio le migliori persone che esistano scena dopo il ragazzo che ha dato la bottiglia che ha le convulsioni perché il liquore era avvelenato quindi mentre William Hale sta parlando con il nipote di quanto siano fantastici gli Osage ne ha appena seccato uno è terribile questa cosa cioè lì in quella scena tu vedi in quanto cinque minuti quanto il personaggio di De Niro William Hale sia un mostro lo vedi proprio a schiocco di dita la messa in scena è incredibile perché tu hai un semplice dialogo con campo e contro campo tra Ernest e lo zio parlano della guerra di come gli Osage si è diventati potenti Ernest parla di come il suo stomaco si è scoppiato in guerra gli hanno dato una pancera gli hanno detto non sollevare pesi lui era cuoco tra l'altro di fanteria quell'altro gli parla adesso tu inizierai a fare l'autista vai tranquillo sarà molto bello gli Osage sono fantastici poi tu montaggio subito pam stacco Osage morto che fino a un minuto prima era lì che chiacchieravamo abilmente quindi già solo questa piccola sequenza fa capire la potenza del film ma poi vediamo come Ernest viene manipolato ma ci mette anche del suo dallo zio per avvicinarsi a Molly farle da autista chiederle di uscire e poi in un secondo sono sposati è quello di cui parlavo prima è molto rapida questa cosa poi due scene dopo hanno già dei figli è molto veloce per me questo è un po' il difetto maggiore del film quindi vediamo che i due si costruiscono questa vita e piano piano le sorelle di Molly iniziano a venire uccise proprio dallo zio e con la complicità di Ernest cioè per me è questa la cosa più terribile lui che guarda in faccia la moglie dicendo dai ti prendo l'insulina perché lei è diabetica e non preoccuparti e ti aiuto io ci sono io non ti succederà nulla e piano piano fa fuori le sue sorelle quando muore Reta con con Bill con si chiama si chiama Bill vabbè il insomma il marito di lei fa saltare lui viene incalzato dallo zio che dice io sto andando fuori città tu devi fare devi dire al nostro contatto di fare il lavoro devi farlo subito quando scoppia la casa noi vediamo il personaggio di Ernest che quando vede la la sorella morta lui sta male in un certo senso perché si rende conto di quello che sta facendo però ha paura dello zio e poi è anche avido è anche molto avido però ha soprattutto paura dello zio ma questo non lo giustifica perché lui comunque compie degli atti terribili ma veramente tremendi per tutto il film salvo poi volersi ripulire la coscienza quando l'FBI rappresentato da Jesse Plemons e dai suoi colleghi lo beccano e lui dice vabbè facciamo che testimonio testimonia dice che testimonierà poi arriva l'avvocato di William Ayle che è Brandon Fraser che interpreta questo personaggio molto sopra le righe ma perfetto cioè in quel momento è quasi è quasi teatrale no io desidero conferire in privato col testimone è bellissimo cioè il modo in cui lo fa è fantastico con questa sorta di Deus Ex Machina e subito Ernest no però ha ragione loro mi hanno manipolato il FBI mi ha manipolato io non posso fare questo mio zio cambia poi nuovamente idea quando la figlia più piccola muore e allora a quel punto lui capisce che deve star vicino alla famiglia e dice va bene io devo tradire mio zio solo che in aula candidamente lui dice di aver partecipato all'omicidio delle sorelle della moglie per avere il patrimonio per il petrolio e c'è questa scena intima bellissima che contrasta con quella del processo di loro nella stanzetta con lei che dice cosa mi davi cos'è che mi davi insieme all'insulina e lui dice no ti davo solo l'insulina e lei si alza e se ne va perché capisce che mostro sia il marito mente ancora nonostante cioè nonostante abbia detto le cose terribili che ha fatto e lei sia anche disposta ad accettarle non può accettare che lui finga di non averla avvelenata perché lo zio e il fratello gli dicono adesso tu dai gli devi dare le devi dare questa fiala di una medicinale che la faceva ammalare ancora di più insieme all'insulina quindi lei lei è veramente un personaggio strepitoso lei ama il marito ma il fatto è che Ernest in un modo malato ama lei Ernest si divide come ho detto prima tra la malvagità e l'amore lui la ama sinceramente ma forse ama di più se stesso e nonostante confessi molti dei crimini che ha compiuto si vergogna confessare quelli più tremendi che concernono il tradire la moglie nell'avvelenarla nel cioè ha fatto tante cose terribili che lei non può perdonare un mostro del genere e il fatto è proprio che lui cerchi di intortarla costantemente ma lui cerca di intortare anche se stesso poi il peggiore è lo zio che nonostante a un certo punto sia in galera viene detto che manda le lettere agli Osage dicendo io tornerò voglio stare tra i miei amici nonostante li abbia massacrati uno dopo l'altro lui quando parla di questa cosa dice io lo so che è una cosa brutta però cosa dobbiamo farci deve andare così lo so che può sembrare brutto anche il povero Harry quello Osage molto depresso lui è il suo amico e ha fatto un'assicurazione sulla sua vita non perché effettivamente voglia essere suo amico ma perché vuole i soldi e poi è molto bello come notiamo che alcune persone del paese come ad esempio l'assicuratore eccetera in realtà siano agenti federali infiltrati perché questi poveri idioti maledetti William A. Ernest Burkhardt e tutti i complici pensavano che tanto sono nativi americani ma chi vuole che si interessi a loro ma chi se ne frega ma tanto no e alla fine li hanno pizzicati certo gli Osage sono dovuti andare fino a Washington pagare 20.000 dollari e dire oh guardate che ci stanno ammazzando e voi non fate un cazzo ma volete venire a indagare anche l'inizio in cui vediamo i vari morti Osage con la voce di Molly che dice il nome della persona e poi nessuna indagine cioè ti fanno vedere come gli Osage venissero ammazzati come cani per strada o davanti a casa addirittura la scena del tizio che spara in testa la madre con la bambina e il passeggino è terrificante senza che nessuno indaghi è il problema principale è un film che vuole denunciare il massacro delle popolazioni native americane il motivo per cui secondo me come film in sé agli Oscar non so quanto verrà apprezzato perché è molto critico con il comportamento di quella particolare civiltà di cui lo stesso Scorsese fa parte ma il momento più alto è il finale dove invece di fare come in tutti i biopic dove compaiono le immagini del personaggio magari quella reale una foto vera e poi la scritta su cosa è successo Scorsese mette in piedi uno show cioè una programma probabilmente radiofonico ok che di solito viene registrati dal vivo e infatti oggigiorno siamo tornati di decenni indietro in senso buono però perché di base la maggior parte dei podcast di maggior successo sono questo cioè vengono registrati in studio alcuni addirittura in teatro pensate a Tintoria o al Poretcast che io seguo tra l'altro oppure non so pensate al basement di Gianluca Gazzoli a Muschio Selvaggio a tutti quei o a One More Time tutti quei podcast che sono registrati magari in studio e il video viene mandato poi su YouTube o su altri social e poi si trova il podcast solo audio ok è un po' la stessa cosa solo che si faceva per la radio questo programma radiofonico o magari anche televisivo è comunque un programma ok sponsorizzato da Lucky Strike in cui ci sono degli attori che che sostanzialmente fanno riproducono quello che è accaduto ai personaggi dopo ok ti parlano di William Hale che poi è stato incarcerato e scagionato fino agli anni 40 quindi ti fa capire che non ha pagato quello che doveva pagare alla fine alla fine lo hanno liberato e dice io voglio tornare in un'azione Osage ed è tornato dagli Osage così come anche Ernest Berker che si è fatto la galera è stato poi è stato poi scarcerato ed ha vissuto nella nazione Osage in un campo roulotte col fratello oppure lì è bellissimo perché c'è l'attore che dice fratello mi passi l'accendino per accendere la mia Lucky Strike quindi cita lo sponsor e poi arriva questo omino piccolino con gli occhialoni il signor Martin Scorsese in persona che racconta senza effetti sonori senza ridicolaggini tra virgolette in un silenzio di tomba cos'è accaduto a Molly Molly è morta negli anni 30 si è risposata ed è morta a 50 anni ed è quello che diceva William Hale De Niro all'inizio del film le donne Osage non arriva raramente raramente superano i 50 anni quindi il destino di Molly è quello di una donna Osage non arriva ai 51 anni devastata dalle malattie però con la dignità intatta ha mollato l'uomo che le ha distrutto la famiglia un lennesimo uomo bianco che voleva i suoi soldi si è risposata ha vissuto la sua vita e alla fine la vita è stata inclemente con lei le persone che l'hanno devastata le persone che hanno cercato di ucciderla alla fine l'hanno fatta franca non sono marciti in galera sono stati in galera per un po' poi sono stati scagionati alla fine lei è quella che ci ha rimesso di più ma non ci ha rimesso la dignità quindi sembra che la sorte con lei sia stata cattiva ma in realtà lei stessa con se stessa è stata è stata irremovibile lei voleva mantenere la dignità e quindi ci sono tanti momenti ad esempio il momento in cui muore la sorella Anna quella diciamo che si portava la pistola nella borsetta che viene ammazzata da 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 questo da quest'altro abitante della città e dal fratello di Ernest erano tutti in combutta loro Black Ethan tutti in combutta tra l'altro bellissimo quando De Niro NASA che stanno arrivando i federali cerca di eliminare le prove facendo ammazzare i vari complici ma in occasioni che si ammazzano degli incidenti poi obbliga il nipote a far firmare questo documento per cui se gli dovesse succedere qualcosa i soldi rimarrebbero in famiglia e quindi Ernest è spaventato perché capisce che quello è un modo dello zio per dire guarda che ti sto per fare la pelle te lo sto dicendo ma non te lo voglio dire troppo ad alta voce quindi per me è quello il grande valore del film il fatto che tutti i personaggi siano terribili alcuni trovano giustificazioni per edulcorare il male che fanno ma serve veramente a poco io sono dell'idea che davvero ci sia una costruzione narrativa eccezionale veramente cioè siamo proprio a dei livelli elevatissimi cioè ci sono delle cose che per me sono realizzate in un modo ma davvero ragionato fino al minimo dettaglio la parte dell'esplosione quella della casa è quella che mi ha colpito maggiormente però ci sono tanti altri momenti ad esempio quando quando si vedono i massacri quello che dicevo prima il tizio che spara in faccia alla donna facendolo sembrare un suicidio senza neanche impegnarsi troppo per farlo sembrare tale mettendo la pistola in una maniera innaturale che non potrebbe averla mai usata per l'altro sulla mano sinistra insomma è secondo me un film straziante sotto quella anche il momento in cui annunciano a Ernest la morte della sua di sua figlia lui che impazzisce in gabbia con lo zio vicino che dice oh no no e si mette a pregare con questa ipocrisia che lui porta avanti fino all'ultimo quando Ernest va da lui dicendo io devo pensare alla mia famiglia e quindi devo testimonare contro di te lui dice ma no gli Osage ci supporteranno gli Osage ti odiano ma no io sono un grande gli Osage gli Osage mi amano la stessa persona che li massacrava da anni in maniera sotterranea gli Osage a un certo punto io quasi mi chiedevo ma com'è possibile che non si accorgano cazzo che questo è un mostro ma effettivamente a un certo punto quasi ci credevo io che in realtà lui volesse bene gli Osage quindi fotte me spettatore figurati se non riesce a fottere gli Osage cioè da quel punto di vista io credo che siamo veramente a dei livelli estremi cioè io l'ho trovato veramente un film quando io dico che è monumentale intendo che ha una costruzione talmente solida che non mi vengono in mente altri altri termini quindi sì per me è straordinario ma poi la facilità con cui riescono a ordire le trame per ucciderli un momento che mi ha colpito è quando c'è quel personaggio quello con tanti figli quello che è ucciderli ok che diventa amico dell'indiano e c'è la sua voce narrante e lui dice io mi sono affezionato mi sono affezionato molto a lui tanto è vero che non riuscivo a fare il lavoro e poi poi ti fai vedere che alla fine il lavoro fa gli spara quindi quell'amicizia era sincera perché era nata un'amicizia sincera tra i due però era più importante farlo fuori per avere i soldi perché tanto è un indiano e quindi quando dice devi ammazzare qualcuno Ernest dice devi ammazzare qualcuno lui dice no no non posso farlo al momento guarda che è un indiano ah beh allora la situazione cambia capito è proprio una storia di odio raccontata nei minimi dettagli e per me questo ha un valore incredibile tu finisci il film che hai lo schifo per le persone veramente ti rendi conto di quanto che poi è una cosa che succede ancora adesso succede succede in tanti paesi del mondo pensate agli uiguri pensate a ai genocidi degli ultimi decenni pensate ai tuzzi e agli utu ovunque ci sono popoli che vengono oppressi e che si opprimono la vicenda purtroppo è una storia vecchia quanto il mondo quindi Scorsese ha preso in esame la storia degli oseg ma questa storia è una storia che in realtà risuona nella storia con l'S maù maiuscola dell'uomo da sempre ancora oggi e l'odio non smetterà mai perché le persone purtroppo non tutte le persone però gli esseri umani sono così ovvio non tutti però la storia ci insegna che tanti purtroppo sono così quindi per me una opera clamorosa quindi questo è quello che pensavo circa Killers of the Flower Moon in maniera un po' più approfondita se ne pensate voi e se fate spoiler mi raccomando che se state facendo il tuo commento con il titolo spoiler così non vediamo il film che ancora l'ha visto io vi abbraccio vi ringrazio grazie e noi ci vediamo al prossimo we vlog ci vediamo grazie a tutti